Emanuele Fagaccia, un commento su quel punto a partire dell'Italia agli europei di Forex e un bilancio in quel tempo periodo? Un commento oggi ce la siamo giocata bene con le energie che avevamo in quanto la quarta partita in due giorni, però i ragazzi sono riusciti a rimanere in campo per 4-7, con un rammarico per il finale del 4-7 dove abbiamo perso un po' di vicinità e non siamo riusciti ad arrivare al quinto, però è stato un impegno da parte di tutti importante, non siamo riusciti a portarli al quinto set, quello sarebbe stato un'altra chicca per noi, però c'è la partita finita, hanno fatto meglio sicuramente il primo in finale, mantenendo più freddezza, soprattutto in attacco e anche in battuta, dicendo che ha due problemi che non avevano creato fino a quel momento, un po' più stanchezza, un po' anche per qualità del loro servizio. Il bilancio del nostro campionato è positivo in quanto abbiamo portato a casa la prima vittoria, la nostra nazionale, una nazionale molto giovane, ci confrontiamo con nazioni che conoscono il set in volley e lo praticano da decenni, quindi abbiamo da lavorare molto per crescere e per diminuire il gap con i più risparmi dell'Europa, considerando che poi l'Europa è un continenti più operativi, con i più preparati, con i più competitivi, con il set in volley, con un'altra scuola. Grazie.